Ragazzi, finalmente eccoci qui su cosa? Oggi, come state ben vedendo dal 3DS, siamo qui oggi finalmente sulla demo di Pokémon Sole e Pokémon Luna Salve a tutti i miei centrizzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video Sono MrElectric ed oggi, come ho già detto, finalmente eccoci qui nella demo di Pokémon Sole e Pokémon Luna Sono appena tornato da scuola e ovviamente, sapendo che usciva questo giorno Non ho saputo aspettare, tant'è vero che guardate, l'ho appena installato e lo devo ancora aprire, quindi lo apriremo insieme Ah, ok, molto semplice il verso, non il verso, il suono più che altro Beh ragazzi, cosa dire, incominciamo Ci sono tutte quante le lingue, italiano, e va bene, giustamente noi che cosa scegliamo? L'italiano E che siamo pazzi, iniziamo il gioco Vediamo un poco Allora, questa qui sì, è a Lola Oh mio Dio Oh mio Dio, santissimo Caro San, se stai leggendo questa lettera vuol dire che sei già arrivata da Lola, spero che il trasloco non sia stato troppo stancante Come va con il Green Ninja che ho lasciato per te? Col Pokémon amo il caldo e scommetto che non vedo l'ora di scatenarsi in lotte infocate nel pepore della regione di Lola Il mettente non è scritto da nessuna parte e la lettera non è firmata Deve essere un tipo distratto Mamma mia grafica raga San, dobbiamo andare in comune, bisogna registrare il cambio di residenza Perché si sono appena trasferiti Oh mio Dio, che figata How Oli How Oli, zona commerciale Troppo bello San, sapevi che a Lola non è il solo della regione, ma anche il saluto che ci si scambia da queste parti? A Lola, siamo venuti a registrare il cambio di residenza A Lola Dunque, vi siete trasferiti da... Minchia, da canto Sbricherò le pratiche necessarie Nel frattempo accomodatevi pure in sala d'attesa Vi chiamerò quando sarà tutto pronto Grazie Va bene, d'accordo Temo che ci sarà da aspettare un po' Beh, vabbè, meglio di nulla Ci possiamo muovere già? Oddio Cioè raga, guardate com'è fatto bene Raga, ma è qualcosa di spettacolare No, vabbè Uh, How Ciao How Il nostro amico rivale, più o meno Eh, va bene Ehi, ciao, tu sei San, vero? Sì, e tu chi sei? Metto Sì, e tu chi sei? Dai Io sono How, piacere Meno male Però tutta attaccata dovrebbe essere, non lo so Meno male che il nono mi ha mandato in comune per sbligare le sue noiose commissioni Così sono riuscito a incontrarti Vedo che già ti stai facendo degli amici Io sono How, lei è la mamma di San, vero? Piacere Piacere mio E come dicono qui Allola Perché non fate un giro in città mentre io aspetto che le pratiche siano pronte? Yeah, un'idea grandiosa Dai, San, andiamo, ti faccio vedere la città Mamma mia Che cosa bella Buon divertimento con il tuo nuovo amico Ovviamente, che cosa stai pure scherzando Rai scendere un'occhiata qua fuori e vedrai che resterei bocca aperta Eh, credo proprio di sì Benvenuta da Lola Un posto affascinante e pieno di sorprese Un giovanotto come qui E come te, qui si troverà benissimo Va bene ragazzi, andiamo a vedere allora Eh, vabbè, lì chi ci sono, mio Dio Guarda, è una faccia nuova Ciao bello Tu non sei da Lola, vero fratello? Eh, vabbè Eccoli qui Il Team Skull Oddio Il Team Skull Vieni da lontano, sì? Basta uno sguardo Fa vedere i due Pokémon Dai, mica mordo Oh no, il Team Skull Questi mascalzoni vanno in giro a rubare i Pokémon degli allenatori Ma come ti permetti? Noi non siamo dei ladri Siamo solo un gruppo di burloni con la passione per i Pokémon degli altri Eh, se basta Così poco per farvi agitare Con questo caldo finirete per sudare Su, rilassatevi E datici i vostri Pokémon Non li vedete mai Questi Pokémon sono i nostri amici Beh Se questo è quello che volete Ve lo chiederemo meno gentilmente Mamma mia Le mostre sono troppo belle Sun Anche tu hai un Pokémon, vero? Va bene Allora preparati a lottare Beh, credo di sì Ragazzi, la prima lotta Ragazzi, la prima lotta Mio Dio Oh mio Dio, le cazzate Mamma mia Oh mio Dio Ragazzi, mi sto sentendo male Non ci credo Ma che figata Ma no Uh, Yangus Ok, perfetto E noi abbiamo il Greninja Oh, perfetto Eccolo qua, il Greninja Mamma mia, ragazzi Mamma mia È qualcosa di bellissimo Allora, di Pokémon abbiamo soltanto Greninja Perfetto Lotta Acqualame, rossalto Doppio team E notte sferza Beh, io credo che un'acqualame Sarebbe la cosa migliore Vai, acqualame Cioè, vai Greninja Usa acqualame È giusto, sì Quello è continuo, l'acqualame Che poi la cosa bella è che Il Greninja che abbiamo ora Possiamo trasferirlo in sole e luna Nel gioco principale Ok, intendo a livello 36 Quindi È appena evoluto Raga, è bellissimo No, vabbè Quando finisce una sfida è così Oh mio Dio La canzone poi Ma, ma roba da matti Come fa ad essere così forte questo qui E va bene Avete vinto questa volta Ma non accettiamo la batosta Aspettate che la nostra Che la nostra capa No, non capisco Che la nostra capa si può dire Lo sappia Non avete scampo di manzi alla sua rabbia Mio Dio, santissimo, raga Hai visto? Con i Pokémon al proprio fianco Non c'è nulla da temere Sun Il tuo Pokémon è Greninja, vero? È troppo bello Vieni Andiamo a far rimettere in testa Le nostre squadre Così ti faccio vedere anche Dove è il centro Pokémon Raga, mamma mia Raga, io Devo stare calmo Sono troppo eccitato E' eccitato e agitato Allo stesso momento Intanto la borsa Ok È fighissima com'è Intanto abbiamo tutto quanto vuoto Però, vabbè Allola Benvenuto a A Wally Ragazzi Ma è bellissima L'ambientazione Mamma mia, raga Raga, voi Forse chi l'ha scaricato Capirà Ma Non lo so In barco di Mele 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 sarebbe la città Eh, la città La regione L'isola Insomma Allola Ciao Allola Anche a te Che poi Allola Al contrario è sempre Allola Vabbè Corsola Non è un amore il mio Corsola E vedessi com'è bello Quando agito i cerami di corallo Non possiamo passare, vero? Intanto però È visto dall'alto Io pensavo se vedessi Diciamo frontalmente Ehi Sun Questo è il centro Pokémon Oh mio Dio È gigante Entriamo Vediamo un po' com'è fatto Senti verso di uno Yangus Un barco di Mele Mele Chissà se si possi Chissà se si possono catturare i Pokémon Ma è nudo questo Ah no Segui andare alla collina Dieci carati Devi chiedere a quel signore più avanti Quello con la macchia azzurra È gialla Con la camicia No la camicia Ah chi è questo? Ciao Non è per farmi gli affari tuoi Ma Ho come l'impressione Che non Tu sia ancora stata al centro Pokémon Vediamo un po' quindi Però voglio prima esplorare per bene Raga il cambio di inquadratura È qualcosa di bellissimo Qui c'è qualche strumento magari Ma non credo Comunque Entriamo Oh mio Dio Oh mio Dio Se parli la signorina al banco Rimetterà il sesto di Pokémon L'infermina Joy Com'è cambiata La canzone Ma se non ci sono i centri Pokémon Vicini Puoi usare una porzione Per farlo tornare in forma Anzi sai che c'è? Ti do una super porzione Grazie mille Oh mio Dio Lì sono sul lopo Che intanto Fammi pensare Dove possiamo andare adesso? Qui c'è un tavolino E questo è un caffè Giusto Mi sto occupando la caffetteria Mentre il proprietario è via È partito per il viaggio intorno al mondo La ricerca dei migliori ingredienti Dovrebbe essere di ritorno Fra un mese Quindi non fa nulla Che poi La cosa che io non capisco ancora È L'infermina Joy Ma quando arrivano lì dietro Che fanno? Scavalcano Non lo so Non capisco ancora Comunque Al centro Pokémon Chiunque può far rimettere in sesso la propria squadra Bene Capisco Capisco E invece tu E il Pokémon Anzi questo è il Pokémon Market È chiuso Capisco Quindi devo mettere in sesso la squadra Allora Se non c'è il centro Pokémon Vuoi far riposare la tua squadra Certamente Ma raga la squadra è stupida La squadra Sì la canzone è bellissima No Vabbè come no 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 vabbè No no raga no È bellissimo No 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 Mamma mia Non fa affatto bene C'è proprio È andato qua c'è del vetro C'è raga è fatto benissimo Fai pensare Dovessimo andare adesso Beh Se tu vado con il tuo fianco Puoi andare molto lontano Se l'unico mi si deve Può diventare in capo al mondo Ragazzi Mamma mia raga È fatto No raga Non c'ho parole veramente È fatto benissimo Ok intanto Uuu È lì che abbiamo È lì che abbiamo Oilau Chi è il nuovo amico Ah Professor Kukui Eh vabbè Eccolo qui Ti presento San Si è appena trasferito qui Prima abitava nella regione di Canto Dall'altra parte dell'oceano Però un bel viaggetto eh Eccolo qua Il professor Kukui Ciao San Io sono Kukui Piacere di conoscerti Il professor Kukui È uno studioso delle mosse di Pokémon Bene sì Esatto Per amore della scienza A volte Ne testo la potenza Su me stesso Ragazzi se vedete un po' spogato Il professor Kukui È proprio così anche nel gioco Eh non vi preoccupate Che ah guardate È messo bene È tutto nero No vabbè No sta cosa è brutta da dire Che poi Au è il rivale più figo di tutti Secondo me Comunque Professore perché non Nallini San Eh wow wow No sta cosa è un po' brutta Wow au Come Mai questa richiesta improvvisa Poco fa quelli del team Scala Ci hanno assaliti Ce la siamo cavata Ma non è stato tanto facile Eh Un Yangus Stupidissimo Capisco Se dovessero attaccarvi di nuovo Meglio essere pronti Beh potresti Affrontare una prova Per diventare più forte Cosa ne dici San Certo Ovviamente È che siamo stupidi Wow che entusiasmo E senza Neanche sapere di cosa si tratta L'energia di un Colpo ribolle in te Come nel Pokemon La Megaforza Machamp Come nel Pokemon Megaforza Machamp Le prove sono un'antica tradizione Le prove sono un'antica tradizione di Alola I giovani allenatori affrontano Per raffinare le proprie capacità E rafforzare il legame Con i loro Pokemon Facciamo così Quando sei pronto per affrontare la prova Vieni alla collina di Shikarati Ti aspetterò lì E noi ovviamente Cosa faremo? Ci andremo Vedete quel signore Che accompagnerà la collina Alla collina Alla collina di Shikarati Tu e il Grey Minja Ce la farete di sicuro Datti da fare San Quando avrai finito Riprenderemo il nostro giro turistico Perfetto 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 Ragazzi Abbiamo visto Come è fatto sto gioco E raga ovviamente Essendoci l'introduzione Andremo a vedere un poco Cosa si nasconde In questa città E finiremo qua la parte Perché ovviamente La divideremo in delle parti Uh 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 No Dai 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 Ti prego dimmi quello che penso Piki Pack Si Piki Pack Ulle Però peccato che non è la Pokeball No peccato Uh che bel verso però Eh non le ho le Pokeball No perché lo voglio catturare Super pozione No non ho le Pokeball Mi dispiace ucciderlo Vabbè lottiamo E uccidiamolo con la nostra esferza Peccato però Mi sarebbe piaciuto No Piki Mi dispiace ucciderti Ok va bene ragazzi È veramente qualcosa di Di entusiasmante sto gioco Perché è fatto veramente Troppo bene Uno Yangus Uno Yangus Ok perfetto Abbiamo visto Bene Mamma mia ragà Che poi è bellissimo Perché non ci sono le pedane A terra Eh questo qua è pure femmina Va bene vai E guardate C'è praticamente Il personaggio nostro Dietro al Pokemon Dietro in questo caso Al nostro Green Ninja Ragazzi Veramente Io non vedo l'ora Di giocare A sole e luna Vero e proprio Perché Non lo so Non lo so Non lo so È fatto troppo bene La grafica è qualcosa di Pazzesca C'è veramente ragà Io sono in ansia In ansia Troppo Ah qui c'è un Machamp Perché è un Machamp Così di scatto Jump C'è ragà veramente Sto gioco È fatto Da Dio Proprio da Dio È fatto Cammina col tuo poco Con le mano nella mano Di si restituire Le verano lontano Mamma mia Tutti i poco Non hanno le mani Ragazzi Ragazzi Veramente Cosa dire Io spero Vivamente Che questo Inizio demo Ah Questo è quel porto Che questo Inizio demo Vi sia piaciuto E ragazzi Cosa dire Io spero Ovviamente Che il video Vi sia piaciuto Lasciate tantissimi Pollicini in su Commentate Condividete Ci vediamo Un prossimo Un prossimo episodio Della demo Di Pokémon Sole E Pokémon Luna Dove Andremo a Fare Dell'altro E ragazzi Ci vediamo Anzi Come dicono Le persone Di Alola Alola a tutti